Ciao a tutti i lupi del tubo sono charlie e benvenuti nel mio nuovo video allora che cosa siamo Delle scenitiv Jack a destra Ah no siamo le guardie Ok allora siamo su Ogat ragazzi sono con Jack Ciao Jack Ciao Pezzo Ciao E Manchuz che è senza microfono E siamo su un nuovo gioco si chiama Ogat Ci ho giocato davvero pochissime volte a questo gioco e tutte le volte Ciao Mi sa che questo è un vietanamita Chi? Charlie tu stai qui in mezzo Ok Boh un tipo che ho ucciso Buttroom Non entrate nel bagno delle donne sennò sono costretto a uccidervi Allora per chi non conosce questo gioco praticamente esistono due squadre ovviamente Quella delle guardie e quella dei ladri E lo scompito Il compito dei ladri è rubare un oggetto che conoscono solo loro Stanno arrivando Dove dov'è? Lì dentro Sta qua dentro l'ho visto l'ho visto l'ho visto Granetta Aspetta aspetta Jack sei un coglione Grazie per avermi ucciso Jack sei un grande Allora quindi quello che devono prendere è qua sopra Praticamente solo i ladri sanno che cosa devono prendere e noi dobbiamo difendere qualcosa che non sappiamo Però vabbè Quello che dobbiamo prendere Ma quanti siete? Eh sono in tre zio Non so se li hai pentati No siamo in due No siamo in due veramente Che cazzo No tre Scherzavo tre Oddio Ho visto un movimento lì Sì So io che movimento ti vedi va De panza No nessun movimento Sto scherzando Dove è qua dentro Qua dentro Aspetta Prova ad accendere la luce Io accendo la luce No 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 Ok brava Intanto è pezzo che ha il mallocco No ce n'è un altro qua Non però non lo vedo dove Tu dici? Oddio oddio raga Sta qua dentro Eccolo eccolo Scherzavo ci penso io Sta nel corridoio Scherzavo Uccidilo uccidilo Uccidi con lo stronzo È molto Infatti devi scendere per forza di pezzo Ma avete capito cosa devono rubare per caso? Non mi interessa cosa devono rubare Ok calmati No Come ho fatto? No è possibile È passato attraverso il muro C'è qualche bug Sì Dicono tutti così quando sono scarsi Ti ammazzo il cane Hai un cane? Quella madonna Hai un cane Forse ne ho tre Se non ce l'hai Che sei passato Jack? Se non ce l'hai te lo compro E te lo ammazzo Zio il vietnamita Ma non c'è più il vietnamita Vabbè ci mancano due secondi Abbiamo vinto Yeah Abbiamo vinto Applausi 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 per Charlie Charlie Tutta garcia Tutti merito mio Tutti merito mio Tu Charlie prendi quella con la baionella Ok fatto Aspettami Jack aspettami Tu puoi sparare Jack io seguo te perché mi piace Vieni qui Vanzu Tu ti metti qua i controlli qualsiasi persona venga da di qua Io seguo Jack perché Jack è bello Mangiuto e non deve andare avanti Ho paura Jack però Va bene così Jack Lo ammazzo Ok Guarda che pass Come ho fatto non uccidere Ok mi sa che aspetta Lo spiega Devi stare lontano Stai lontano Volevo ucciderlo Ma io volevo uccidere No io posso Guardalo madonna che pro Olè via Ma raga come ho fatto Meno uno Cosa La porta C'era la porta Oii Che porta Ho detto di metterti lì davanti Ti sei sposato E c'era la porta Mi ha sparato attraverso la porta Gesù Guardi io Rimettiti al posto lì Mangi Oh Ti metti lì davanti Ma cosa che dobbiamo prendere? Ah quella roba lì in alto Fermati qua Così Lontano dalla porta Nasconditi dietro i blocchi Quando li vedi arrivare Oddio non ci credo Non ci credo Non ci credo Jack ma sei scemo Vai 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 Stanno andando a fare fermo Tieni lì Tieni la posizione Manciuz Viga Manciuz Sei scechi Cazzo Oh rega ditemi voi quando eh Vai vai Vinciamo subito? Vai 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 Yeeey Abbiamo vinto un'altra volta Che down Manciuz Ti ho detto di tenere la posizione Ho chiarato pezzo Allora check Spiega la modalità zombie come funziona Spiega la modalità zombie come funziona Ma siamo in modalità zombie? No Semplicemente c'è un cervello Ah si C'è un cervello da mangiare Gli zombie devono mangiarlo E' qui rega E noi dobbiamo proteggerlo Ma perché a me Invitano a pezzo Easy Dai ma che pizza No l'ho preso però Venite qua Cervellino Voglio il mio cervellino Voglio il cervellino Datemi il cervello Ma sei fatta? Si sono fatta Ho voglia di cervello Gesù c'è un tizio No 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 Non uccidermi Ti pleezo Ho finito le munizioni Ti pleezo Non uccidermi Ha finito le munizioni? No 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 Dai Vi ho detto che le avevi finite No Mega troll No Non riesci Jack ad entrare A accendere la porta? Ma che l'ha? Cioè Non riesci a A spegnere la porta E Aprire la luce Si devo spegne la porta Va bene Ma è giù Porta chiusa 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 Ok ok sto facendo sto facendo correte 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 Jack muoviti Jack Staccalo devi staccarlo Lo sto facendo Jack muoviti Jack Si si Ci sono Ok sto facendo Staccale luci Ma raga ma ne manco una persona Mangia lo mangio E lo sto mangiando Lo sto mangiando Sto mangiando Perché non me lo fa fare Sto premendo Ok ora me lo fa fare Attento 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 Ma come mi hai fatto morire Ok Lo sto mangiando Lo sto mangiando Tranquilla Tu mangia Si si sto mangiando Mangia ma Ok Mangiato Vabbè ma ne manco una persona Ma che senso Oh e vai Eccola la faccia Ora la vedo Trovato Non ci voglio credere No vabbè dai Ma quanto è grande sta mappa No No Ah no Ah no Non ci sono luci qua Basta fare così Guardami No Jack No Jack Non da me Non da me Ce n'è uno Eccolo Eccolo No non l'avrei mai detto Charlie spara E' marciapiedi Sta qua dentro Eccolo lo vedo Mi piace sparare i marciapiedi Sì hai ragione Era un fan Era un Eh Ti saluta il dito Che spiegati Dai Charlie Eh Vedi a vedere i tisti che comprono i giochi Vedi Eh Non va bene Stronzi Eccolo Eccolo Ma che avete Avete tre minuti Il tempo scade Raga ma mi ho già perso Praticamente Brutto vero No 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 Quando è entrato Tranquillo Dai Jack Mi gamano E' qui E' qui Stronzo però Mi ha mandato all'aria la copertura Quale copertura Quale copertura Infatti Di quella che avevo Sì Sì Sperta 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 Mo' fare il giro Il giro tondo Ecco lo sapevo Charlie tu vai da quel lato Io vado da questo Ma c'è ancora il mangiut Ho paura Quella madonna Quanti siamo Arrivano tutti Ditemi quando la situazione si fa Che arrivo Ma perché non mi accorgo di non avere più munizioni Non me ne accorgo mai Ma tipo è nella barra di un vampiro Sta cazzo di cervello Probabile Ma perché è barra di un vampiro Non semplicemente una barra Infatti Una barra normalissima No perché le barra Oddio C'è una granada giulush C'è una granada giulush Vi trovi minastro Frigissa Oh dimmi quando arrivano Che faccio l'entrata effetto Ma non arrivano proprio Ma chissà dove stanno Eh io so dove stanno Non le guarda lì Ti vedo Ma dovresti andata a cacciarti Ho la copertura Io lo vedo No Ah si Eccolo eccolo Oh Jesus No No È muovi Charlie Jack muoviti No io lo guardavo No 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 Jack muoviti Ma muore Lo sapevo Lo sapevo No girati Fermate No che cazzo esci Ma sei scemo Dovevi stare dentro Aspettavi Oddio Mamma se sei stupido Vado in copertura Ancora Avevi fatto tutto bene Se hai proprio fatto Il coglione Oh no 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 E infatti Non ho detto niente Ho detto Cioè avevi fatto tutto bene Cazzo Rega avete un minuto Poi abbiamo vinto noi Avete un minuto Per entrare Nelle vostre case Eccolo eccolo Bastardo Bastardo Quando Dove è arrivato Pezzo Da dove è arrivato Pezzo Ma chi l'ha visto Ma chi ha visto Pezzo Ma Pezzo Chi t'ha visto Stati calma Oh Pezzo Ma chi t'ha visto Attento 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 Non mi troverete mai Solo in un'altra Vediamo che c'è che è sgamabile Guarda Io l'ho trovato Ma non è vero Non è possibile che mi hai trovato adesso Basta è finita Ma direi Sì c'è che Non so dove sei Potete farcela Perché l'avete già rotto Non sai dove sono Vabbè è un posto grandissimo Cioè è impossibile Fidati che è possibilissimo E poi siamo in due Le budelle Eccolo 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 Le vai Con lo scoperto Si Si C- Si No 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 Uccilo uccilo Non ci credo Due secondi No Abbiamo vinto Eh vai L'avevo mangiata Avevo rotto la fiamatura Eh viva